Regina dell'ombelico formato famiglia, torna dopo quattro anni di assenza a Rai 1, davvero a casa sua, dove è esordito a 18 anni nel 1961. Sono invecchiata un po', c'ho qualche ruga in più, però sono diventata una persona molto più equilibrata. Quello che penso di portare è un programma nuovo per me, oramai di nuovissimo, non c'è nulla al mondo. Grandi sorprese, ogni puntata sarà diversa dall'altra, perché sarà un fantastico pieno di scherzi, perché parlare di sorprese, non potervi spiegare che tipo di sorprese facciamo. Di sorprese e in sorpresa fino a pronto Raffaella. Raffaella Carrà si è proposta anche davanti al celebre barattolo di fagioli. I telespettatori hanno una curiosità, ma tu i fagioli li mangi? Io i fagioli li mangio. Certo chi mi ricorda solamente per i fagioli lo fa con un minimo di senso dell'ironia, con un minimo di critica, ma io dentro lo so che pronto Raffaella non è stato il programma dei fagioli, ma ha rivoluzionato la televisione. Accanto a Raffaella, travolto dalla passione nel 1982, l'inseparabile principe consorte Sergio Iapino. Il signor Carrà ti darebbe fastidio? Penso che darebbe fastidio più a lui sicuramente, ma non c'è un signor Carrà, perché io mi chiamo Pelloni. Sergio nella fattispecie si chiama Sergio Iapino. Prima, quando stavo con Gianni, si chiamava un compagno, quindi il signor Carrà non esiste, è magico. Raffaella, è vero che vorresti adottare un bambino? Sì, ma ho un grande problema, a parte l'età, perché io ho 52 anni, il problema è che non danno bambini in Italia a persone che non sono sposate. E questa è una legge che dovrebbe essere cambiata, sono perfettamente d'accordo con Dalila di Lazzaro, perché in tanti altri paesi questo accade, cioè di dare un bambino a una persona singola e questo bambino, anzi, ha tutte le cure ancora più profonde da una persona che ha un po' di anni. Parliamo di Natale, quale regalo ti piacerebbe ricevere? Mi piacerebbe ricevere anche dei piccoli pensieri da tutte le persone che io amo, ma mi basta veramente anche, che ne so io, una presina per prendere il caffè che scotta, che mi piace tanto. Una scommessa, invitiamo i telespettatori a regalarti tutti quanti, in segno di simpatia, un fagiolo. Beh, faremo una zuppa per tutte le televisioni che ancora fanno di questi giochi al telefono. Raffaella, due passi del tucca tucca? No, ti do un colpo di testa, vai, te lo faccio di profilo così ti viene meglio, ma quante cose vuoi, eh? Mi piaci, boom! Allora, in...